Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! L'estate sta avvolgendo al termine e si avvicina a un nuovo capitolo del divorzio più seguito degli ultimi anni, quello tra Ilari Blasi e Francesco Totti. Secondo un'indiscrezione dell'ultima ora, la conduttrice è finalmente pronta per entrare nella battaglia legale, con l'assegno di mantenimento in primo piano. Ilari Blasi e Francesco Totti hanno trascorso un'estate rilassante, rispettivamente con Bastian Muller e Noemi Bocchi. Dopo la fine del loro matrimonio, si sono immersi nelle nuove relazioni come se il passato non fosse mai esistito. A metà settembre però, i due ex coniugi più amati di Roma si ritroveranno in tribunale per discutere gli ultimi dettagli del loro divorzio. Su un settimanale si legge Ilari Blasi ha trascorso un'estate felice con i figli e il fidanzato Bastian. In arrivo il secondo film biografico unica. Serena ma decisa, è pronta ad affrontare la battaglia giudiziaria contro l'ex Totti. A due anni dall'inizio della causa di divorzio, sembra che la conduttrice e l'ex calciatore stiano per concludere la vicenda, discutendo anche dell'assegno di mantenimento. Secondo le indiscrezioni, al centro della battaglia legale tra Ilari Blasi e Francesco Totti, c'è l'assegno di mantenimento. Il clima tra gli ex coniugi è teso perché la conduttrice chiederebbe una somma consistente dall'ex marito. Per ulteriori dettagli non ci resta che attendere metà settembre.